Pitta, devi andare a dormire, mi devi vieni qua. Che fa questore qua Pitta? Sì, è vero che fa il tuo... Il cane senza pace proprio, non ti fa la pace. Fa la guardia di notte. Ma che guardia? Fa rompere le scatole di notte. Io mi sto pronto eh. Ok, sono pronto. Ah, le giornaliere pure non sapevo l'ho fatta. Colpa alla testa. Mechanical edge grab. Ottieni un totale di 5 uccisioni. Ottieni un totale di 2 nemici uccisi con un colpa alla testa pure. Eh, mi mancano... Mi mancano le 5 uccisioni con un veicolo eh, per la stagione. Per la stagione. Eh sì, perché c'è giornaliero settimanale, stagione e obiettivo. Però stagione non si guadagna nulla se non sei premium. Quindi che me ne frega. Non devo mica farlo allora. Beh, i pedoni possono stare più tranquilli. Comunque quando faccio le partite quelle da solo, che appena entri nella mappa mi butto a destra o a sinistra, vado a cercare un veicolo, mi allontano, no? A volte qualcuno si butta con me e io ci provo a metterli poi sotto con la macchina. Però non è facile. Eh no. Allora. Dove si va? Allora, stavolta dico io. Ah, mettiamo il segnalino della lancia. Ah, c'è Palace che è sempre intrigante, Palace lì a metà in su, però è difficile. Però ti dirò, andiamo a Palace. Ma dov'era quel paesino con tutte le case? No, non me lo ricordo. E con chi siamo? Con Herrlaus, Bus, Bub e con Rawa. Eh, guarda, Palace c'ha le armi. C'è la bolla blu. La bolla blu verde. Vado. Un'altra, 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 un'altra... Tanti uno, due tre, quattro cinque, cinque, sette otto, nove, dieci. Carte, un'altra, e sei canire. dieci persone almeno. Ho tirato in aria il, bellissimo, il panzer faust, esploso, però non ho preso nessuno mi sa. Qui abbiamo il salvataggio d'emergenza, possiamo eventualmente andarcene alla grande. C'è un sacco di 9 mm qua. Tu metti un pinguino va, che poi vedo un attimo... ovunque. C'ho un'impugnatura verticale, che se non trovo altro te la do poi. C'ho anche l'Aug, che se non trovo altro... se mi trovi una pistoletta 9 mm facciamo cambio, ti do l'Aug. Ah vabbè, allora tieni quello. Poi c'è anche il K2 che spara le 9 mm, scusa le 5,56. Poi. 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 Grazie. Un cacchio. Mica che paura. Bello il silenziatore per il vector. Grazie. Ok, comunque a me manca un'ottica ancora. Qua ci sono due terni. Sì, sì, va bene, va bene. Pinga vicino. Sì. L'avete pingato? Sì. Ha intanto trovato un 3x. Ma cazzo. Sono morto. Porca. Sì. No, sono solo te. No. 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 Lì. Uno o due al massimo. Vabbè adesso li starà ancora tutti. Se non erano i 7 altri. Ma non ho capito da dove erano. Sì. Dove c'è i teschi. Vediamo se riesco a prendere. Non c'è più i teschi. Ma... Ma... ma tutti... Perché poi spariscono. Dove erano i teschi? Eravamo in questo cortile qua dentro? Ma davanti a te là. Un po' corta? Era corto. Dai al volo pure! Cioè io corro, salto e ti prendono comunque e tatam due volte al volo, come cazzo fanno? Te lo dico, fra otto cento di tempo. Vabbè questo c'aveva il mini 14, era un altro. Madonna come ha tirato corta la bomba. Eh vabbè, ci sta, ci sta. Vabbè, se vedi il replay non ha senso, perché è in ritardo allo sparo. Cioè manco ero dentro il mirino, però. Eh, palace. Palace. È per chi ha le pallas. Eh sì sì, è difficile, palace. Perché è tutto aperto e cazzo. Vabbè, però è pronto. Bene, tanto materiale. Purtroppo non potrò editarlo, perché poi domani c'è un casino di cosa fare e dopo domani parto, al mattino. Va bene. Va bene, andiamo a vedere se c'è qualcosa da alluttare qui in su. Da alluttare. Luttare? Basta, dovevo parlare italiano, ne avessi qualcosa da prendere, da trovare. Sì, da riscattare. Eh sì sì, esatto. Beh, oggi dai, la media era di partite. Sì sì sì. È stata media. Abbiamo fatto undicesimi, ottavi, secondi, primi, sesti, settimi, settimi, diciannovesi. Eh vabbè, allora alla prossima, ad agosto, vabbè. È vero, ci si vede ad agosto con un nuovo costume. Va bene. Va bene. Ciao Ian, ci aggiorniamo. Ciao ciao. Sì sì. Ciao. 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 Grazie.